Dai dati diffusi dall'osservatorio prezzi e tariffe di cittadinanza attiva emerge che la Toscana e l'Umbria abbiano l'acqua più cara del centro Italia. Nel 2018 in Toscana una famiglia con tre componenti, con un consumo di 192 metri cubi l'anno, ha speso mediamente 676 euro. Quella di Arezzo è la sesta provincia italiana più tartassata con una spesa media annua di 711 euro. È una costante, noi siamo sempre fra i primi posti in Italia, l'Umbria ci segue, la Toscana è la prima in assoluto, ma quello che non appare in queste statistiche ovviamente è quella differenza che c'è tra Arezzo, la gestione Nuove Acque e altre gestioni anche della Toscana che fa sì che nelle nostre tariffe gravino delle somme che sono state due volte calcolate. Quindi noi dovremmo avere delle tariffe inferiori del 15% in questo momento a quelle che erano l'anno prima invece continuano costantemente ad essere aumentate. Questo come mai? Perché c'è una sorta di connubio fra gli intenti ovviamente di massimizzare i profitti da parte della gestione che è in mano, sappiamo, ai francesi della Suez, non tanto in mano ai comuni che se ne sono soci di questa società, ma subiscono ovviamente l'influenza e gli appetiti della parte privata. Ma certamente questa inerzia dei comuni rispetto all'interesse dei cittadini, cioè questa inattività da parte loro, fa sì che noi ci facciano pensare che abbiano sempre dei tornaconti non personali ma a livello di bilanci, amministrazioni comunali che si piegano ad accettare questo tipo di impostazioni da parte della società, di chi ha in mano la società. In questo modo noi paghiamo altissime tariffe che non meritiamo, mentre in altri gestori della Toscana diciamo che in questo momento stanno facendo investimenti che non avevano fatto precedentemente, da noi, mentre li facevamo, pagavamo per anni, per un decennio e passa, tariffe superiori del 30% a quello consentito dalla legge. Successivamente ce ne siamo ritrovati ancora a essere richieste somme, circa 22 milioni di euro, che noi paghiamo in più in questi anni a nuove acque per far sì che si mantengano un utile netto del 10% anno che si dividono fra soci privati che sono i francesi della Suez e i comuni. E ad Arezzo c'è anche un'altra problematica, la riduzione della pressione ai rubinetti dei piani alti degli edifici che coinvolge sempre più utenze servite da nuove acque. Sì, questo è un serio problema per molte famiglie della città, ma anche dei paesi limitrofi e delle altre località intorno ad Arezzo, in quanto nuove acque da anni sta perpetrando una strategia che è quella di voler abbassare le perdite di rete che risultano così, la fanno risultare una società di gestione di eccellenza, in quanto abbassa costantemente le perdite di rete. Però questo lo ottiene attraverso la riduzione della pressione nelle reti, cosa che fa sì che sono costretti moltissime zone di questa città, i condomini che hanno più di due o tre piani, anzi al terzo piano già non gli arriva in certe ore l'acqua sufficiente a far attaccare la caldaia per l'acqua, non possono fare neanche la doccia. Si lamentano costantemente con i propri amministratori condominali, i quali fanno presente la cosa a nuove acque, ma nuove acque risponde che purtroppo devono dotarsi di autoclave o rimettere in funzioni quegli autoclave che sono stati dismessi in quasi tutti gli altipiani di Arezzo nel momento che portammo l'acqua del Monte D'Oglio attraverso il potabilizzatore di Poggio Cuculeo nel 1998, prima che arrivasse nuove acque. Cioè noi avevamo una pressione nei nostri rubinetti più che sufficiente che via via nuove acque ha piano piano abbassato. La cosa costringe adesso a rimettere in funzione gli autoclavi con grave disagio anche economico dei cittadini pur pagando queste tariffe stratosferiche.